Filotei Lino è un'azienda di Pescara del Tronto specializzata nella produzione e lavorazione artigianale di funghi porcini e tartufi neri, freschi, secchi, congelati in vasetti o trasformati in salse, creme e patè. Filotei si fa in due per te, ti aspetta in via del commercio 30 ad Ascoli Piceno con il punto vendita e l'annesso laboratorio e presso il centro agroalimentare di via Vallepiana a Porto d'Ascoli per la vendita di funghi coltivati, freschi e tartufi. Acquista i tuoi pacchi di Natale anche online su filoteilino.it oppure chiama il 339 66 44 385. Filotei Lino, unico ed inimitabile. Al prossimo episodio